Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Barberino e Aglio. Sulla A11 Code ancora per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per traffico intenso, Code tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze, Code in uscita a Scandici in direzione Mare. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La viabilità cittadina a Firenze via Poliziano chiusa a causa di un incidente con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!